Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi presento questo kit per far crescere le farfalle. È un kit della Insect Lore dal 1969, come potete vedere, ed è veramente interessante per chi come me ama gli animali e soprattutto interessa lo sviluppo degli animali, in questo caso degli insetti, perché partiamo da un brocchino che si trasforma in farfalla. Questo kit è per i bambini dai 4 anni in su, quindi è in realtà molto semplice, molto sicuro e il risultato è assicurato. Parliamo di farfalle vere, farfalle vere come vedete qui dietro, che cureremo dal principio, quindi sin da quando sono piccoli i brocchini, a loro evolversi in farfalla, che poi uscirà dalla rete che abbiamo all'interno di questo kit per volare tranquillamente. È solo un momento di passaggio dove mi aiutano a trasformarsi da bruco in farfalla. Molto importante poi anche nutrire i bruchi, infatti vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Allora, questa è la rete di cui vi parlavo. Apriamo. Vedete, è molto carina, c'è il motivo delle foglie, proprio perché alla farfalla sembra di essere nella natura. Ha un design molto carino, molto colorato, molto vivace, molto simpatico. Quindi questa è la rettina dove terremo le nostre farfalle, dove si svilupperanno i nostri bruchi. Vedete? E lo trovo molto, molto carino, molto simpatico. Poi qui abbiamo ovviamente le istruzioni e una pipettina, vedete, che servirà per nutrire i bruchi, come vi dicevo prima. Importante perché dentro abbiamo anche un buono sconto, codice per un buono sconto perché? Perché se apriamo, notiamo che abbiamo appunto uno sconto per acquistare i nostri bruchini, che ci saranno spediti da marzo fino a metà settembre e saranno appunto da 3 a 5 con questo buono. E qui ovviamente c'è il certificato per i bruchi, perché appunto parliamo di insetti veri, eh? Quindi molto interessante, sicuramente ottimo da utilizzare con uno sconto abbastanza importante. Quindi ovviamente quando arriveranno i nostri bruchini andranno nutriti con la pipetta, anche perché appunto non si trovano in natura, ma rimangono qui dentro, quindi dobbiamo essere noi a occuparci di loro. Come potete vedere la retina è in plastica sopra, ma ovviamente nel corpo è appunto una retina, quindi adatta per prendere aria e tutto, perché noi facciamo non esperimenti, ma vogliamo aiutare le nostre farfalline, vedere la crescita. Qui c'è, ci sono le istruzioni per far crescere i bruchi in salute, vedete? C'è tutto il procedimento da bruco a farfalla, con la temperatura anche che l'ambiente deve avere per poter far crescere e sviluppare i nostri bruchi, con delle immagini molto belle, con le indicazioni per il nutrimento, le diverse fasi, vedete? Da bruco a farfalla, che è veramente interessante, io trovo molto interessanti queste cose, e per finire il bruco si trasforma in una bellissima farfalla, la nascita di una farfalla. Bellissimo, super interessante, kit veramente eccezionale, dai 4 anni in su, quindi molto facile anche da usare per tutti i bimbi. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo prossimamente, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, nel caso non l'aveste ancora già fatto, e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!